Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale Fredio Oggi faremo un video su un video di questo horror E qui noi c'è un aspettino regolario, no, no salio Eccolo qua che si ride, fai sentire la tua voce, molto bella Oggi faremo un video su due video Uno che riguarderà Fainandes Freddy 3 E uno che rappresenterà Fainandes Freddy 4 E incominciamo a giocare Iniziamo da Fainandes Freddy 3 Ragazzi eravamo rimasti alla terza notte Inizio io Che è a paura Tu stacchi molto E' già qua Ah ma qua qual'è più difficile perchè guardare tutta la casa Allora ancora si è spostato Quindi ragazzi Mi sto chiedendo addosso Quindi ragazzi Stiamo cercando in questa casa di non essere presi da conoscere Lo sanno questo gioco Lo sanno questo gioco Lo sanno Lo sanno No oggi errore Ah è scoppiata prima Che bello Che bello Cosa? E' una bolla Ecco Cominciamo a giocare E' scoppiata Ciao Oh ma già c'è... oh mio dio si sta facendo un buco dai dai ho visto nel pezzo oh 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 spicciati oh che è? ma è vero sto giro no 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 o freddy ah Alla prossima Non fai un cuore Non fai un cuore Oh 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 Ma strumentano Vieni fare l'audio Vieni nella camera qui non c'è la lì Lei ha l'audio Lei ha l'audio Oh 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 Io manco ci vai Non c'è ci domandare Ecco E Gioella resiste ancora a fare E l'hanno lavato Sono ancora i dodici Pericolo a mostri che lo muove In mezzo a cazzo Non prende niente Però non si vede niente tutto il ruolo video Eh vieni fare Non si sceglie Non si sceglie Mamma Non si sceglie No Nel vetro Nel vetro Fai azzitti Azzitti Se si sceglie Un petro Sceglie Il terrestre educ Il接no flying Non è la camera 7 che viene tra te E ci... Forza stronzi il video forse non può condimare perchè il mio telefono è a 4 e vabbè se lo carichiamo e lo continueremo un'altra volta se questo mostro i minchi lo mazzo allignate fatti vedere quindi quando muore il rosario finisce stanzi li mazzo tutti come usate farvi male a me che mi interessa mi interessa io camera camera tua camera camera cing camera 6 camera mi interro fai play out nella camera 9 ma tu hai fatto nell'8 adesso viene più veniente vai qua curati la camera ok dai che sistema prende dai che sistema prende ci sono bambini a cazzo lo pargano vabbè ma niente o freddy che la ahaha ahah è stato a Non lo so 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 Ragazzi Questo video E dopo un po' vi presenteremo un altro video di Finlandia Non lo so Quindici Oh Salah